no ma è quello che dico sempre davvero non c'ho niente da tipparmi? solo sto schifo qua? ma è vero che qui hanno cambiato tutto il main ma io bevo 0 punti però per averla tirata giù magari appendendola mi da qualcosa non sei troppo drammatico sì direi che dracula nel secondo mondo non è per niente male tra l'altro ciao buonanotte bardo grazie di essere passato anche perchè se voglio salire basta che mi tippo qua è veramente forte qua si dracula oddio è può passare pure lì sono arrivato usando un po' l'evento dal lato killer con determinati killer devo vedere se oddio da forma da forma pistra lo posso usarli? no non si può no qualcuno è entrato nel mondo qualcuno è uscito dal mondo oh what? mi ha messo letteralmente le palle in faccia il lupo non è per niente male in realtà sto spettro se riesce a landarlo sto spettro è ragazzi è tanta roba è come se colpissi una certa dell'altra per essere a tempo guadagnato è tantissimo se riesce a colpirlo e se hai un killer che può effettivamente fax che può effettivamente navigare veloce qua tipo andosi sopra eccetera ne guadagni tanto di tempo mi sa che in forma lupo non posso sì in forma lupo non si può usare il coso adesso e quitta se un giorno mettevano dracula sì è un altro tipo di dracula questo però vabbè ma davvero ha quittato come non mi sto usando tanto adesso in che senso fast uhu ok l'importante è che abbia bloccato quella finestra poi nice un modo dove si piazzano nel colmo un bicchio di sangue beh l'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re a new york senti è già tanto che sono riusciti a farlo funzionante alcune volte bisogna accontentarsi il killer è divertente va bene così come puoi contestare questo killer devi riuscire a schifargli il fuoco bene o male nel loop come fosse piramide vabbè se è bene lo dice la mamma non può fare e quando hai in forma pipistrello cerchi di stare curato e non fare rumore devi giocartela come se fosse un piramide head quando usa il potere in pratica è l'unica cosa che puoi fare in forma lupo devi giocartela come se fosse Wesker una porca puttana quando mi sa sto coso certo non passa mi sembra giusto è l'unica è l'unica è l'unica è l'unica è l'unica anche l'unica anche l'altra nel mondo non ha mai esatto non ha mai esatto i pull la smoke nice sì anche quelli uncini ma sono abbastanza inutili uncini qua perché si teletrasportano a un uncino nel mondo normale gg draculotto non male eh non ci sa il dottore draculotto in stavoletà non è per niente male è abbastanza fortino non è solo capire bene un attimo come utilizzare questi scheletrini ma anche Vecna vorrei provare doppio scheletro no puoi metterli ma non li puoi utilizzare c'è da avere una build dove riesci ad avere tutti i totem non ci fai super ad arrivare cosa vuol dire arrivare tutti i totem New York chi è che di voi andrà a fare dolcetto e scherzetto per curiosità ma tu che cazzo dici tu amore bau manda bubi snake non abbiamo più nove anni che significa per qualcuno fa lo stress mi sembra la cosa che è lì dentro ancora va dai ha riuscito a saltare comunque sembra davvero molto più bassi il surf con Dracula io faccio allora il modi ma ops devo dirlo ancora andato nel mondo è entrato nel locker va no ok spacca o scappa ok ok Mi sono spostato troppo Non ho ancora il tp Peccato Dove è andato quello che ho atterrato? Ok Dolcetto bacetto Dolcetto tutta la vita Ma si droppiamo un palle a taglio Nice I have waited for this moment Nice Oh nice Mi fregava Se è Sable o Azix Ovvio ad Azix bacetto Minunne ha fatto di dolcetti No ho fatto solo scherzetti Minunne ha fatto solo scherzetti Ok Oh nice Ma non gli basta Non è a Vicenza Sarebbe un dolcetto Beh pensa che l'abbiamo trovata a Vicenza Minun È Vicentina Minun Andiamo a dove equiparmi qua Non vedo dov'è No ecco di qua Che cosa Una volta di Minun Ha fatto un bun lì Quindi Minun non va a fega La Minun è una fega Non vedo dov'è L'ha tirato malissimo Avrà la DS? No Sono i baci perugino i dolci preferiti di Ajax I bacini perugino Mi manda la foto Di che cosa? Lei? La Pierlista Ah, la Pierlista Hai ragione, hai ragione Sono forse l'unico che non ha mai usato di essere in via ufficiosa per lo stress di non potermi curare Di non poter curarmi, curare o fare gen È proprio quello, è bello, non devi fare niente finché ce l'hai Ma sta abbaiando E ho capito che è innamorato di Minou Ma sta abbaiando Minou? Proprio bubino frenzonato Capisco Bubino Ma essendo un cano e un gatto Vanno d'accordo Allora Bubi va d'accordo con Minou Minou non va d'accordo con Bubi Minou ignora Minou ignora Non ne frega cazzo direttamente Si vuole inchiaffettare Minou Bubi Non ne so se Guarda niente Ah ho sbagliato Sono andato contro il pallet Ehi salve Niente del mondo Che odio che mi gira dalla parte opposta Come mai Non mi piace Qua peta perché contro come mai Non mi è piaciuto Non mi piace il genere Non mi piace come ha fatto Tante cose Come ho fatto manca Gli è passato attraverso raga Fagli togliere le bolze Poverino Povero Bubi Ciao Tyrus Ma sto titolo Oddio non so cosa ha messo Ma che alla fine Tu sei messo alla fine Come titolo Eh non lo posso vedere io Ah si perché abbiamo fatto la tier list E ci hanno flammato fortissimo In realtà dei trollini a flammare So che qui perché ho visto gli scratch max Non so dove cazzo è andato Solito Solito esatto Ma dai ma che sfiga Non era lì Che cazzo stava lì Che bello il mondo di Twitch eh Eh già Che ci volevi fare ragazzuoli Che cazzo stava lì Che cazzo stava lì Che cazzo stava lì Che cazzo stava lì